Hai progetti per il tuo futuro? Abbiamo iniziato ad indagare sulle cose che vanno di più in questo periodo e pensandoci più volte ci siamo chiesti se alla gente interessa ancora la moda. Per questo siamo andati al centro di Roma e... Senti, scusa, posso farti una domanda? Certo. Conosci Geraferragni? Ovvio, mette le foto anche quando vai in bagno. Ecco appunto. Noi ragazze della scuola di moda abbiamo un'idea chiamata Project 3. Questo progetto si basa sui desideri del futuro e per chi è appassionato alla moda. Chi vuole raggiungere i propri obiettivi si affiderà appunto ai collaboratori che ci sono dentro. Primo punto, cercare persone in cui interessa la moda. Aggiornarsi sulle nuove tendenze. Avere più originalità dei nuovi avversari. Avere un profilo social professionale. Aprendo dei corsi con noi, Project 3 diventerà reale e tutto ciò sarà realizzabile. Vi aiuteremo a realizzare i vostri sogni con costanza e divertimento. Abbiamo raccolto delle firme e la maggior parte delle persone farebbe parte di Project 3 per diventare la regina o il re del fashion. E la cosa più importante, i nostri schizzi si potranno creare e sarete le prime persone ad indossare i vestiti unici così da lanciare una moda. Se vuoi uno stile tutto tuo, vota Project 3. I just wanna look... I just wanna look...